Arriva la nuova gamma full liner di Fiat Professional, il brand dell'ingotto dedicato ai veicoli commerciali e da lavoro. Composta dai nuovi fullback e talento, oltre che dai sempreverdi Ducato, Fiorino e Doblo Cargo, la proposta dell'ingotto per i professionisti e le piccole e medie aziende si presenta come una tra le più complete sul mercato, con soluzioni per ogni tipo di necessità e cliente. I tre nomi storici del brand sono stati rinnovati dal punto di vista dei motori e delle dotazioni di bordo, confermandosi ai vertici delle rispettive categorie. L'arrivo di fullback e talento, inoltre, propone nuove possibilità di espansione in segmenti finora poco esplorati da parte di Fiat Professional. Arriverà in Italia già con una versione ricca, sia in termini di comfort che in termini di contenuti di sicurezza, basti pensare ai setter bag o all'end departure warning system, il trailer stability assist, contenuti di base che possono poi essere arricchiti fino ad arrivare al top di gamma con un navigatore satellitare touchscreen da 7 pollici o con gli interni in pelle. Il fullback, frutto di una collaborazione con Mitsubishi basato sul pianale dell'affidabile L200, è un pick-up che garantisce portata, capacità e resistenza a sforzi molto intensi. Robusto, affidabile e brillante, è equipaggiato con motore 2.4 turbodiesel Common Rail da 150 o 180 CV, e può essere dotato sia della trazione posteriore che di quella integrale. Al suo fianco c'è poi l'inedito Talento, un veicolo dalle grandi capacità di carico, che si propone come il compagno ideale del professionista sia in città che fuori dai centri abitati. Estremamente versatile e capace di adattarsi alle diverse esigenze, Talento è il punto di raccordo ideale tra il Doblo Cargo e il Ducato. Ha un vano lungo oltre 4 metri e un volume utile che arriva quasi a 9 metri cubi, ovviamente dipende dalle versioni. Disponibile in quattro configurazioni, il nuovo Talento può contare su una serie di propulsori diesel 1.6 e prestazioni paragonabili a quelle di unità più grandi e con consumi maggiori. Grazie a tutti!